La ringrazio, ci tenevo a poter fare un intervento su questo ordine del giorno per effettuare alcune precisazioni rispetto a quello che è stato scritto dal Partito Democratico. Allora, viene indicato nelle premesse che gli impianti di Casazzo e Cesano ancora non autorizzati, in realtà non è così, l'AIA per questi è stata effettuata, ora bisogna fare il bando di gara per la costruzione di questi impianti, non solo, poi ci si chiede sui tridovagliatori mobili dove vengono collocati, sono mobili. Allora, io volevo fare una precisazione anche rispetto a diverse dichiarazioni che sono state fatte, questo piano industriale che sicuramente col tempo potrà essere migliorato e si potrà essere più precisi rispetto ad alcune indicazioni che sono state date, in realtà mette a bilancio tutti i fondi per la realizzazione degli impianti, devo dire al contrario di quanto fece il Partito Democratico nel 2015 che nel fare il piano industriale non mise i soldi a bilancio, per cui io credo che abbia una consistenza maggiore rispetto a quello che in realtà è stato fatto nel 2015, pertanto il Movimento 5 Stelle voterà in modo contrario, la ringrazio.